Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Scandici per un incidente. Fino alle 12 del 4 novembre è chiuso per lavori il tratto tra Pian del Voglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. Sulla Fipili in direzione Mare, rallentamenti per lavori tra Firenze Scandici e Scandici. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze Impruneta. Sulla Statale 1 Aurelia per lavori in direzione Livorno è chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Follonica Est. Poverci Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.